Sono appena tornato da uno shooting di fotografia di interni e il cliente mi ha chiesto di applicare il suo logo su una serie di monitor che erano presenti all'interno dello spazio fotografato. Questa è una richiesta che viene fatta molto spesso a fotografi e videomaker ed è una cosa un po' seccante perché a saperlo prima sarebbe stato sufficiente impostare il monitor per proiettare già il logo e avremmo avuto le foto pronte già da subito. Però questa è una cosa che succede molto spesso perché il cliente non ci pensa, il fotografo nemmeno non ci ho proprio pensato e quindi mi tocca fare questo lavoro. Per cui oggi vado a farvi vedere come si fa a inserire un logo o a inserire anche delle grafiche o qualsiasi cosa vogliamo inserire all'interno di monitor, cartelloni, insomma all'interno di spazi che possono essere adibiti alla riproduzione di una qualsivoglia grafica all'interno delle nostre fotografie. Vi farò vedere come si fa utilizzando l'applicativo Adobe Photoshop e utilizzando gli oggetti avanzati. È la stessa tecnica che si usa per creare dei mock-up. Quindi di fatto andremo a creare un mini mock-up della nostra fotografia di interni all'interno della quale potremmo andare a inserire il logo del cliente, una fotografia, qualsiasi cosa vogliamo inserire lo potremo fare circoscrivendo lo spazio dentro cui vogliamo andare a lavorare e mettendolo nella giusta prospettiva. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come detto oggi andrò a farvi vedere una tecnica rapida, veloce e indolore per andare a migliorare le nostre fotografie di interni nel caso in cui il cliente ci richieda di inserire un logo o qualsiasi altra cosa all'interno di uno spazio circoscritto presente nelle fotografie che abbiamo realizzato. Prima di cominciare però vi ricordo che questo è un canale su cui io parlo di fotografia, videomaking, design, per cui se questi argomenti vi interessano e volete cimentarvi nella fotografia, nell'arte del videomaking o nella post-produzione, io vi consiglio di iscrivervi cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi contenuti. Andiamo a incominciare. Perfetto, eccoci qui all'interno di Photoshop. Ora quello che andiamo a fare è che andiamo a creare una forma con una sembianza di 16 noni, non sarò esattamente preciso, se volete essere precisi fatela con una proporzione di 16 noni, verrà sicuramente meglio. Adesso la andiamo a riempire col bianco e andiamo a togliere la traccia. Ora, subito dopo averla creata, andiamo a trasformarla in uno Smart Object. Una volta trasformato andiamo a premere Command T ed ecco che possiamo posizionarla e trasformarla. Io vado a distorcerla in maniera tale da far combaciare gli angoli. Quindi vado a prendere il primo angolino, lo posiziono insieme al monitor, vado a prendere il secondo angolino e di nuovo lo posiziono insieme all'angolo del monitor, vado a posizionare il terzo e poi vado a rifinire il quarto, che sicuramente non sarà stato precisissimo. E gli vado a dare invio. Questo è ok così com'è. Ora io faccio doppio clic sull'icona e mi apre un nuovo documento. Vado a prendere il mio logo e lo trascino qui dentro e vedete che posso posizionarlo. Adesso se io salvo, vado a salvare questo documento, mi faccio proprio salva, quello che succede, vedete, è che mi ha applicato il logo nella mia immagine. Questo è un mock-up, è quello che si usa per inserire loghi all'interno di immagini di prodotto o che dir si voglia. A questo punto io posso fare un'altra cosa, posso inserire un secondo logo, quindi come vedete abbiamo il logo nero e il logo bianco. A questo punto ovviamente non posso tenere il logo bianco su bianco, per cui vado a cambiare il colore dello sfondo, vado a mettere un colore nero, ma non mi accontento di questo. Tanto possiamo salvarlo per andare a vedere com'è venuto e vedete che è già stato applicato. Nel momento in cui io salvo questo documento viene applicato automaticamente nella mia immagine principale. Però possiamo andare a fare un'altra cosa, nel senso che adesso andiamo a creare un gradiente, quindi un livello di regolazione con un gradiente, e andiamo ad applicarlo sopra il nostro schermo in maniera tale da dargli un pochino di profondità. Adesso io vado a spipolare con i parametri in maniera tale da renderlo un pochettino più credibile, quindi la luce nella nostra immagine arriva da quella parte, e io vado a posizionarlo in questo modo, in maniera tale che sembri un riflesso che arriva dalla finestra. Quindi lo vado a posizionare in questo modo. Qui stiamo sempre lavorando su questo documento e tutto quello che noi facciamo si riflette dall'altra parte. Per cui vedete che c'è già un primo effetto. Adesso io lo porto in cima perché così quello che ho fatto, e gli vado anche a mettere metodo screen, così quello che ho fatto avrà effetto anche sul logo. Se no non sarebbe credibile se avesse effetto solo sul monitor e non sul logo, in quanto il logo è sul monitor. Ecco, così quello che abbiamo ottenuto è che abbiamo un riflesso abbastanza credibile che si va a posizionare in corrispondenza della luce che entra dalla nostra finestra, esattamente quello che volevamo. Passo ora a mostrarvi la seconda, così andiamo a fare un pochettino di pratica, non ci limitiamo a farne una, ve ne faccio vedere un paio. Qui abbiamo di nuovo questo monitor che stupidamente non avevo riempito. Io vado nuovamente a tracciare una forma più o meno 16 noni, come potete vedere io non la sto facendo precisa perfetta, casca giusto in ogni caso, quindi se volete farla veramente precisa fate veramente un 16 noni. In questo caso io la vado a posizionare, tanto ci pensa la prospettiva a dargli quel giusto tocco in maniera tale che sembri realistico. Ovviamente se state facendo un lavoro super mega importante per un mega brand, dategli le proporzioni giuste. Io in questo caso vado ad applicarla manualmente, tanto poi vado a distorcerla e quindi la differenza non sarà più percettibile. Qui come potete vedere i due angoli sono fuori dalla mia portata, per cui vado a tirare a indovinare dove sarebbero collocati. Tiro a indovinare e potrebbe essere una cosa di questo tipo. A questo punto proprio come prima vado a cliccare sul mio oggetto avanzato e vado a inserire il mio primo logo. Qui lo inseriamo esattamente come prima. Vado a salvare e come potete vedere è già stato applicato correttamente. Qui dobbiamo adesso andare a fargli una maschera, perché qui il monitor finisce dietro. E quindi qua dobbiamo andare a ritagliare questa roba per renderlo credibile. Cominciamo in maniera molto aurozza a fare una selezione. Io provo con il Quick Selection Tool, vediamo come viene fuori. Proviamo a fare una maschera improvvisata in questo modo. Ok, come potete vedere il Quick Selection ci ha azzeccato, però è brutta. Quindi adesso andiamo a fare delle sistemazioni. Andiamo a rimuovere quello che non ci dovrebbe essere. E qui sapete che vi dico, questi due trattini che sono da fare, potremmo provare a dargli un po' di feather, però non so se migliora o peggiore le cose. Questi due tratterelli forse io me li rifaccio a mano con lo strumento lazzo. Tanto lo faccio in fretta, non scomodo nemmeno lo strumento penna. Qui questa roba la gestiamo a mano. Andiamo a fare così, così e così. Che ecco, cosa ci abbiamo messo? Nove secondi. E sicuramente viene meglio che non lasciarlo come era prima. Adesso andiamo a riempire col nero fuori, poi andiamo a riempire col bianco dentro, in maniera tale da avere una selezione un pochettino più figheggiante e diritta. Perché prima era tutta un po' stortignacola. Ecco, così adesso mi soddisfa. Adesso possiamo andare a dargli un feather minimo. Ecco, due pixel è già troppo. Un pixel, benissimo. Così mi piace, così mi sembra più realistico. E questa è la prima cosa. Ovviamente un pezzo del logo viene tagliato fuori, ma perché d'altronde il monitor non è presente per intero. A questo punto io vado a salvare. Vi faccio vedere. Salvo con la dicitura W di white questa prima immagine. Andremo poi a salvare con la dicitura B di black la seconda immagine. Ora qui, proprio come prima, andiamo a modificare il colore. Andiamo a mettere il nostro gradiente. Qui gli devo dire da bianco a nero. Gli devo dare la direzione. Lo ingrandisco un po' perché voglio una sfumatura più morbida possibile. Quindi lo trascino per dargli il riflesso solamente da una parte. E adesso lo porto in cima a tutto e gli vado a dire screen. Così va a collocarsi dove dovrebbe. Andiamo però a mettere il logo corretto, ovvero quello bianco. Andiamo a posizionarlo. Gli do esattamente le stesse dimensioni di prima. Quindi 1300 pixel. Ok, vado a spegnere quell'altro che non si sa mai. Porto tutto sotto. A questo punto, se vado a salvare, ecco che abbiamo il nostro logo applicato perfettamente. Proprio come prima vedete che c'è il riflesso, che è quello che dovrebbe arrivare dalle luci della finestra. Gli dà un pochettino di profondità e un pochino di realismo in più. Proprio come prima andiamo a salvare un nuovo JPEG con la dicitura underscore B che sta per black. Quindi abbiamo il monitor bianco e il monitor nero. Siccome i regali non finiscono mai, ve ne faccio vedere un'altra. Qui andiamo a prendere l'altra angolazione, quindi l'altro lato della stanza. Abbiamo ancora questo maledetto monitor su cui girava Radio RTL 125. Andiamo a convertire la nostra forma in oggetto avanzato. Andiamo a distorcere la nostra forma. Quindi andiamo a fare esattamente lo stesso discorso di prima. E' importante lavorare con una forma. Ecco, qui ho sbagliato, ho fatto prospettiva invece di distorce. Andiamo a modificare. E' importante usare una forma piuttosto che un livello raster. Perché se noi utilizziamo una forma, questa si adatterà a tutte le modifiche, a tutti i maltrattamenti a cui la sottoponiamo senza perdere qualità. Quindi i contorni rimarranno netti e definiti nonostante tutto il tran tran che le facciamo fare. Andiamo a fare doppio click. Facciamo le stesse cose di prima. Andiamo a inserire il nostro logo in questa maniera. Una volta inserito salviamo e ci ritroviamo automaticamente il logo inserito all'interno del nostro monitor. Poi una volta che l'abbiamo fatto andiamo a salvare la nostra underscore W che è la nostra bianca. Ovviamente una volta che noi abbiamo fatto questo mockup possiamo inserire qualsiasi cosa qui dentro. Io adesso vi faccio vedere che faccio diventare nero lo sfondo e vado a mettere dentro un altro logo. Ma noi qui potremmo mettere una foto, potremmo mettere un'altra grafica, potremmo mettere più cose, potremmo mettere qui dentro un altro progetto di Photoshop e possiamo metterci quello che vogliamo qui dentro. Una volta che abbiamo realizzato questo mockup qui dentro possiamo fare quello che vogliamo perché ogni cosa che andiamo a mettere qui dentro verrà automaticamente visualizzata sulla nostra immagine principale. Quindi questo è anche un buon metodo se non siamo sicuri delle intenzioni del cliente. Se il cliente ce lo fa rifare dieci volte è meglio se creiamo un oggetto avanzato di questo tipo. In questo modo ogni volta che dovremo andare a sostituire la grafica non dovremo più rifare tutto il lavoro. Dovremo semplicemente collocare la nuova grafica all'interno del nostro mockup e verrà automaticamente posizionata dentro nel monitor o dentro in qualunque altra cosa vogliamo creare come mockup. Qui di nuovo andiamo a salvarla come underscore B. Andiamo a salvare il nostro bel jpeg poi al termine di tutto salviamo anche il file psd ovviamente con queste modifiche così finché il cliente non ce le conferma possiamo sempre andare a ripescarlo e a fare ulteriori modifiche ovviamente. Bene come avete potuto vedere si tratta di una tecnica non complessa cioè è una cosa avanzata sì perché è una cosa che comunque richiede conoscenza dell'applicativo non viene per caso non è un fader di instagram che possiamo azzeccarlo anche senza sapere come funziona qui bisogna fare una serie di procedimenti e devono essere quelli però è una tecnica tutto sommato abbordabile quindi è una cosa che credo abbiate già imparato e possiate già padroneggiare semplicemente dopo aver visto questo video. L'obiettivo mio era proprio quello di farvi vedere come vado a migliorare le mie fotografie di interni andando a inserire delle grafiche un logo un'altra foto qualsiasi altra cosa all'interno di una fotografia già scattata. Questo può essere utilizzato per andare a rimpiazzare una fotografia magari abbiamo fatto una fotografia di interni di un appartamento di una persona e in questa fotografia c'è una vecchia foto dell'ex e questa persona non vuole più vedere l'ex possiamo usare questa tecnica per andare a sostituire quella foto per esempio oppure come in questo caso c'è un logo mancante possiamo andare a rimpiazzare quello che c'è in un monitor o su un poster e andare a sostituirlo con il logo mancante. Ovviamente questa è una tecnica che può trovare una miriade di applicazioni pratiche e quindi sta a voi trovare la vostra applicazione pratica e lasciarmela anche sapere in un commento perché sono curioso di sapere per che cosa andrete a utilizzarla. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale così non vi perdete i prossimi appuntamenti cliccate anche la campanella perché altrimenti anche se vi iscrivete poi magari ve li perdete per cui io vi consiglio di cliccare anche la campanella lasciate anche un like a questo video perché sono certo che avete imparato qualcosa. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. ciao ciao Grazie a tutti.